Francesco Scrofani assieme ai suoi amici colleghi di diverse classi dell'Istituto Vittorini Gorgia di Lentini per la giornata ecologica. Questo serve a che cosa? Serve al fine di aiutare i ragazzi a una raccolta differenziale, a portare l'ecologia in questa scuola. Infatti qua abbiamo tutto lo schifo raccolto oggi insieme ai nostri compagni. Un appello a chi magari sporca, no? Perché questo significa che tanti... A chi sporca al fine di aiutarlo, invece della cica di segretto, invece di buttarla da terra, buttarla anche nel cestino, anche la gomma stessa da masticare. Una giornata anche che serve a sensibilizzare voi studenti al rispetto dell'ambiente. Questo serve anche come giornata di formazione, no? Sì, è una giornata formativa.